anch'io tutto bene ciao nica ragazzi bene bellissima giornata mi immagino in sicilia che sole che c'è raga adesso ve lo metto nel menù qui si muore quanti gradi ci sono perché sei sempre felice riesci sempre a intrattenermi te una grande un abbraccio dal tuo fan grazie luca grazie caro un abbraccio secondo troppo caldo 28 vabbè abbiamo un grado di differenza secondo me ne hai qualcuno di più nella tua sicilia no secondo me sì allora facciamo una cosa ok mi serve innanzitutto questo gli vado dare una lavata se mi aspettate un secondo che ho fatto i bordelli qui ci sono ok 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 questo mi serve 100% ok ok ci sono asciughiamo grazie 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 caro secondo me la gente va al mare in sicilia per forza che va al mare in sicilia caspita ma puoi andare al mare da tutte le parti con questo caldo anche se non ti fai il bagno ci sta che vai al mare no allora andiamo a metterci innanzitutto meno male che ne ho due meno male che ne ho due prendiamo lo zucchero bruno buonasera ciao nick come va allora zucchero qua perfetto perfetto io sto bene a Rimini no dai no puoi andare al mare da tutte le parti e perché no dai beh io bagno a Rimini non me lo faccio per cui io sono andata a Rimini in vacanza ma all'eolandia ti dirò perché gli alberghi erano pensione completa a differenza dagli altri però cercavo l'albergo con la piscina perché io al mare ma manco per niente stiamo scherzando ma sì non esiste proprio perfetto qui 35 gradi in Puglia però ma se ci sono 35 gradi in Puglia non possono essercene 28 in Sicilia dai perfetto e poi ci andiamo a mettere l'acqua ole adesso ci mettiamo l'acqua adesso siamo andati a mettere 400 di zucchero e andiamo a metterci 500 di acqua allora l'acqua vado a prenderlo eh oggi mangi la bistecca a me è 19 gradi un secondo che arrivo però non prendo l'acqua del rubinetto tanto mi sentite ragazzi che parlo vado a prendere l'acqua l'acqua Grazie a tutti.